Ciao a tutti, io sono Angela De Gaetano. Sono qui per lanciarvi un messaggio. Innanzitutto ringrazio la Scuola di scrittura Passaggi che mi darà l'opportunità di incontrare i suoi allievi. Se lo vorrete, insieme faremo un piccolo viaggio nell'affascinante mondo del radiodramma. Ci sarà un excursus nella storia della prosa radiofonica, analizzeremo insieme gli elementi che costituiscono un testo scritto per la radio. Incontreremo chi in questo testo agisce, parla e fa viaggiare le proprie emozioni per farle arrivare fino allo spettatore. Definiremo inoltre il paesaggio sonoro, l'ambientazione sonora, cosa fondamentale per una esatta comprensione del contesto in cui l'azione si svolge. Io spero di incontrarvi presto perché attraverso anche le esercitazioni conosceremo nuove storie e ognuno di voi arriverà a costruire l'incipit di un proprio personale radiodramma. Vi aspetto, ci tengo, ciao.